Qui vi presentiamo le 5 migliori regali di Natale per ingegneri fuori dagli schemi. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Tinspire CX-Cas, nuovo modello più 60 mesi di garanzia premium. Il nome del marchio è quasi lo standard quando si tratta di calcoli grafici e si può a malapena pensare all'incredibile quantità di funzioni che questi tipi di dispositivi sono in grado di svolgere. Il design suggerito ha una garanzia prolungata di 5 anni che copre qualsiasi tipo di disturbo meccanico o elettrico. Il bundle include il collegamento della televisione via cavo a qualsiasi tipo di caricabatterie o porta. Passando al numero 4. Set matite portamine con custodia, 4. Questa collezione è composta da 4 libri automatizzati di qualità 4 dimensioni 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm e 0,9 mm. Ci sono anche 4 container con 30 piombi HV di scorta e 4 pneumatici di scorta. L'istanza sofisticata, leggera e raffinata può essere comodamente portata ovunque. Ogni matita è compatta, leggera e solida. Grazie alla maniglia ergonomica anti scivolo, puoi comporre e attrarre facilmente per lungo tempo. È eccellente per tutti, da artisti ed esperti a tirocinanti, educatori, designer e designer. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Manuale dell'ingegnere civile. Completamente dedicato alla professione di ingegnere in ambito civile con specifico riguardo all'edilizia, il prontuario dell'ingegnere civile è aggiornato alla normativa vigente nonché alle metodologie esistenti. Facente parte del nuovo Colombo, Manuale del Progettista. Comprende 2500 pagine suddivise in 7 sezioni componenti fondamentali, progetto edilizio, strutture, strade, ponti e anche passaggi, impianti, ergotecnica e sicurezza, idraulica e anche costruzioni idrauliche. Almostat è top of our list at number 2. Il Museo dei Numeri. Un avventuroso viaggio nel mondo della matematica. Qual è il numero, quel tipo lo può capire. Oltre che cos'è l'uomo, chi può riconoscere il numero? Queste domande furono poste dal neurofisiologo Warren M. Ciculloch nel 1960, ovviamente insoddisfatto delle molte definizioni rigide e vacque che erano state effettivamente elevate dai pensatori. In questo libro entrambe le preoccupazioni vengono risolte con un metodo più fluido oltre che pratico invece di tentare in vano di dirci cosa resta il numero in astratto. Ci rivela utilmente una serie di numeri. E infine il numero 1 della nostra lista. Jet Digital Orologio Matematico. La matematica era la materia preferita del tuo amico di ingegneria all'università e semplicemente non ne aveva mai abbastanza? E anche oggi è un vero illusionista nel risolvere problemi matematici in modo davvero invidiabile? È ora di dare un'occhiata a questo orologio matematico. Starà meglio sul muro di casa o sul posto di lavoro. Il grande orologio matematico ha la procedura al quarzo e anche la possibilità di appenderlo al muro con un gancio non incluso. È un regalo meraviglioso per qualsiasi persona a cui piace fare per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.